Vediamo come nasce la buonissima siesta caffè. Una volta selezionate le migliori materie prime, all'interno del laboratorio della Romanella Drinks viene sviluppata la ricetta segreta per preparare la siesta caffè, la bevanda leggermente gassata al gusto di caffè espresso. Il processo produttivo inizia con la depalletizzazione delle bottiglie vuote tramite l'apposita macchina. Le bottiglie sterile vengono lavate nuovamente prima di essere riempite. Spinte sui nastri trasportatori entrano nella sciacquatrice, dove vengono capovolte e pulite con un forte getto d'acqua depurata. L'acqua fuoriesce e la macchina capovolge ancora una volta le bottiglie mettendole dritte, pronte per essere riempite dalla riempitrice. La macchina riempie ogni bottiglia tramite iniezione con 20 cl di caffè siesta. Per mantenere la freschezza del prodotto e le bollicine viene posto immediatamente sulla bottiglia il tappo a corona. La macchina pressa il tappo, creando una chiusura ermetica e preparando le bottiglie per la pastorizzazione. Le bottiglie vengono inserite nel pastorizzatore e sottoposte a una temperatura variabile tra i 40 e gli 80 gradi per un'ora circa. Il pastorizzatore a pioggia permette alla bevanda di essere completamente naturale e di non perdere le proprie proprietà organolettiche per 18 mesi senza l'uso di alcun conservante. La bevanda è così pronta per essere etichettata. Delle spazzole appiattiscono i bordi e l'asciugatore toglie dal collo della bottiglia l'acqua residua evitando nell'ossidamento. Le bottiglie si dirigono verso la clasteratrice che ne raggruppa sei per volta avvolgendole con il cartoncino personalizzato con il marchio Caffè Siesta. Il forno termoregolabile raggruppa quattro cluster e realizza l'imballo in plastica. Un nastro trasportatore porta il prodotto finito al pallettizzatore che realizzerà il bancale completo pronto per essere consegnato nelle nostre case. Il forno termoregolabile raggruppa quattro e realizza l'imballo in plastica. Il forno termoregolabile raggruppa.